Una nuova rivolta, ancora un caso di contestazione in uno dei centri d'accoglienza dislocati nel territorio agrigentino. Immigrati sul piede di guerra nella struttura che si trova al villaggio Mosè, nel quartiere commerciale della città dei Templi, a fare scattare la reazione non certo diplomatica del gruppo alcune rivendicazioni come quella del Pocmone e l'accesso al Wi-Fi, ma non solo, al centro della protesta la qualità del cibo non gradita. Ma ancora prima che i più esagitati riuscissero a prendere di mira mobile su pellettili, creando danni e devastazioni come è accaduto nel passato, è intervenuta la Polizia di Stato, gli agenti della sezione volante e quelli della squadra mobile della Questura. Il loro arrivo è stato fondamentale per riportare la calma nella struttura, ma il tema del malessere delle tensioni resta con tutti i rischi legati alla gestione da parte del personale e degli educatori. Non è infatti la prima volta che si ripetono episodi del genere in un centro di accoglienza. E intanto, se i carabinieri non si fossero accorti in tempo di loro, ci sarebbe stato un nuovo sbarco fantasma sulle coste agrigentine e precisamente a Lampedusa. I militari dell'arma sono riusciti ad intercettare e a bloccare 11 magrebini che erano appena prodati. Erano giunti con una imbarcazione di 5 metri a Cala Pisana. Appena messo piedi sulla terraferma, stavano già iniziando a guardarsi intorno per capire quale strada seguire per arrivare al centro urbano. I carabinieri sono stati molto più rapidi di loro. Gli 11 magrebini sono stati portati all'hot spot di contrada in Piacola, dove sono stati identificati e sottoposti a tutti i necessari controlli sanitari.